ciao a tutti oggi nuovo vlog oggi è il 15 maggio 2016 stiamo andando a prendere la nostra amica perché andiamo a pranzo fuori e li porteremo con noi e dobbiamo ancora decidere cosa mangiare dove andare cosa fare no però sicuramente andremo ai petali adesso vediamo anche perché siamo già arrivati ci sono già le due sono già le due l'appuntamento era l'uno e mezza esatto scusaci fre siamo sempre in ritardo allora siamo arrivati ai petali adesso andiamo a mangiare c'è anche la fre ciao c'è anche la fre e una new entry nei nostri vlog adesso forse andiamo a vedere se il messicano è aperto perché se è chiuso non non so andremo a vedere da spizzico comunque siamo sempre in mezzo alla strada quando ci siamo e io ho una fame tremenda non vedo l'ora di riempire il pancino anche perché a che ore si sono fatte sono le quasi le tre sono quasi le tre dobbiamo ancora pranzare vedete conto e quindi ci vediamo dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' buonissimo, nocciola pura, questa è nocciola pura. Questa è nocciola pura. A te piace, Fred? Te lo dico subito. E' veramente buono. La panna è buonissima. Che buono. E' complicato da mangiare, però è buono. Grazie. Una mano a secco, una mano a secco. Sei sazio? Sono pienissimo, non sono sazio. Abbiamo mangiato tantissimo. Abbiamo mangiato i primi che avete visto e il dolce. Il mio però era la Nutella. Perché c'era scritto crema di cioccolate. Invece era la Nutella pura. Lei non piace. Lo so che è sempre impossibile, ma la Nutella non gli piace. No, non mi piace la Nutella, ma mai. Tenetelo in considerazione per la prossima penitenza. Sto scherzando. E com'era il dolce? Mi era buono, mi era buono. Fred, com'è il tuo? Ottimo, non sto scoppiando. Siamo tutti pieni, mamma mia. Abbiamo mangiato tantissimo. Poi tra l'altro è tardissimo, che ore sono? Le 4 meno 5. Le 4 meno 5. Tutto una merita. Abbiamo fatto pranzo... Pranzo... Come si dice? Pranzo allungato. Pranzo merendo. Pranzo merendo. Siamo finalmente usciti dai petali. Io sono pienissimo. Non riusciamo ancora a digerire. Non lo so dov'è la macchina. Secondo me è sinistra di sicuro. Io ho comprato questo. Che è un treppiedi per fare i video. Anche la Valla ho comprato qualcosa. Però non mi ricordo più cosa ho comprato. Un borsellino. Un borsellino. Colore argento. Portafoglio. Dalla... Stradivarius. Dalla Stradivarius. Era di qua, era di qua. Io la macchina non la ricordavo più vicino. Vabbè è verde, la vedi? Stiamo cercando la macchina. Questa è piccola la tua. Non so se la vedi una piccola. Qua dentro c'era dei balli. Che facevano sia il ballo e il tango. Quello che c'era di fianco alla Kiko. Eh la stiamo cercando. Massimo vieni tu dietro. A posto. Ci hanno chiesto. Proviamo la macchina ma noi la stiamo cercando. E quindi adesso... Eccola abbiamo trovato finalmente la macchina. Abbiamo trovato la macchina. Quindi adesso la mia macchina e ci vediamo dopo. Perché stiamo facendo un bel casino. A dopo. Guardate che bella la stazione di Reggio Emilia. E quella di Italo. La stazione di Italo. Il treno ad alta velocità è veramente bellissimo qua. Ah giusto perché non ci vedo. Perché adesso ci vedo. Dov'è la Vale? Sta aggiustando il portafoglio. Vediamo cosa sta facendo la Vale. Cosa sta facendo la Vale? Sta facendo il cambio del portafoglio. Il portafoglio che ha comprato dalla store di Various. È veramente bello comunque. Bellissima. Adesso facciamo qualche foto. Così facciamo anche la miniatura per questo vlog. Che bello come verlo come sfondo. Veramente bello, guarda. Te lo faccio rivedere. Veramente bellissimo. Prendiamo il sole. Prendiamo il sole. Comunque qua si sta benissimo. C'è proprio un bel sole. Guardate che bel panoramico. Come siamo belli. Siamo troppo belli. Guarda. Uno, due, tre. Amore, due, ciccico. Qua. Adesso andiamo a casa. E ho fatto il cambio del portafoglio. Accompagniamo Fra a casa. Poi Sabba mi accompagna a casa. Poi dopo lui va a casa. Quante case che abbiamo? Tante case. Una, due, tre case. Sì. Però dai. È stata una bella giornata ma siamo stanchissimi perché abbiamo mangiato tantissimo. Praticamente il mexicano si è abbattuto. Infatti io a casa non mangio secondo me. No, ma neanch'io no. Ma non è che era pesante. Perché non era pesante. Era... Era digestivo. Cioè non l'abbiamo... Poi vabbè abbiamo mangiato alle tre, è tardissima. Oddio c'è un dosso. Abbiamo accompagnato la Fra a casa. Adesso lei va a casa. Ciao ragazzi. E noi andiamo a casa. Anche noi andiamo a casa. Ci rivediamo dopo. Guardate la Fra. Adesso è un biocca al sole. Guardate. Guardate. Ascensore. Guardate. Non sono in grado di salire le scale. Non ce la fa a salire. A che piano sei tu? Al quarto piano senza ascensore. Non ce la faccio. Zoomiamo alla nostra amica Fra. Saluta Fra. Ciao ragazzi. Ah che carina la Fra. Ciao ci vediamo alla prossima. Ciao. Guardate chi c'è. Un piccolo sbirulino lì. E' Tom. E' Tom. Gatto della Vale. Guardate che bel gatto. Vieni. Fatti vedere dall'alto di camera. E' Tom. E' diventato un po' vecchiotto Tom. Un po' veramente bello. Si fa coccolare. Tom. Avete visto Wendy il cane della Fra. Adesso c'è Tom. E dopo farò entrerà anche il tuo biedon in quadratura. mettere la porta rovinata qui ha pure digrattato la rovinata io sono ritornato a casa adesso sono davanti al computer che sto già iniziando a editare qualcosa questo vlog penso che uscirà verso martedì e ci rivediamo nel prossimo video con tante nuove sorprese che voglio svelare che ho in mente questa settimana e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate sotto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti iscrivetevi al canale